aiuta lego aiutatemi oh no c'è un uomo che sta annegando ci penso io fermo cosa diavolo pensi di fare vado a salvarlo ho il brevetto di bagnino sei pazzo e il distanziamento sociale senza mascherina senza guanti ti avvicini a un individuo che non è un tuo congiunto e soprattutto non sai se possa essere contagioso poi torni a casa attacchi il virus a tutti pazzo criminale ma non posso lasciarlo morire così al primo posto ci deve essere la salute degli italiani appunto io mi butto aiuta lego fermo come dice il presidente rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani ma chi abbraccio io se questo mi crepa leggiamo le 464 pagine del decreto per scoprire se puoi salvarlo ai risultati del tampone cosa dice ai risultati del tampone tu lo vedi da qui cosa c'è scritto mi sembra che sia negativo io mi butto fermo è il primo il secondo o il terzo tampone ma cosa c'entra è importante questa malattia ha un'incubazione lunghissima e se fosse un falso negativo è il quarto tampone ve lo giuro io vado correrò il rischio fermo ragiona non fare il boris johnson qualsiasi e se fossi tu quello positivo ma cosa dici io sto bene lo sai che si stima un 10% di asintomatici ma devo riportarlo quassù e quando l'avrai riportato qua cosa farai la respirazione bocca a bocca senza aver prima fatto nemmeno un test sierologico vuoi condannare a morte quel poveretto ma sai che forse hai ragione certo che ho ragione aiuta nego non preoccuparti andrà tutto bene dai andiamo per fortuna ci sei tu stavo per rovinare la vita a quel disgraziato guarda la c'è qualcun altro che sta annegando è l'italia non possiamo fare niente per aiutarla stiamole alla larga che è meglio andiamo a farci uno spritz da asporto eh per forza andrà tutto bene